Tre persone sono state arrestate a Pizzo dalla polizia e poste ai domiciliari dopo essere state trovate in possesso di mezzo chilo di marijuana. Provvedimento convalidato al termine dell'udienza di convalida. Il personale della squadra mobile nel corso di controlli, transitando in una via del centro storico, hanno notato due veicoli avvicinarsi ad un condominio dove un terzo soggetto sembrava attenderli con fare sospetto. Agenti in borghese hanno monitorato l'evolversi della scena, notando il trio incontrarsi e sospettando fosse in corso un traffico illecito. Sono intervenuti controllando e perquisendo i tre insieme alle due autovetture. All'interno di una delle auto è stato trovato mezzo chilo di marijuana, oltre a 600 euro in banconote da 50 euro. Le modalità di conservazione della sostanza stupefacente, l'ingente quantità, nonché il denaro trovato, hanno portato gli investigatori a sospettare che la detenzione fosse destinata allo spaccio. Pertanto, a conclusione delle indagini dirette dalla procura di Vivo Valencia, i tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Grazie. Grazie.